X, laboratorio segreto di Alphabet, casa madre di Google, stanno lavorando su Wolverine, un wearable in grado di migliorare l'udito umano. Che il superudito da supereroe possa diventare realtà in futuro? Forse è presto per dirlo, ma di certo il nome del progetto prende spunto dal famoso personaggio della Marvel, famoso per il suo udito, oltre che per l'olfatto. La divisione ha iniziato a lavorare a questo progetto nel lontano 2018, ma effettivamente di che genere di wearable si tratta? L'obiettivo di questo è permettere a una persona di concentrarsi su un particolare oratore in un contesto di gruppo dove vi sono conversazioni sovrapposte. Il dispositivo andrà quindi inserito nell'orecchio come i moderni apparecchi acustici, ricco di sensori e microfoni. Ma la progettazione non è del tutto semplice. Wolverine ha subito diverse evoluzioni in questi anni, anche a causa di problemi tecnici. Alcune speculazioni hanno poi affermato che questo dispositivo sarebbe dovuto andare ben oltre l'isolamento del linguaggio, ma non ci è dato sapere quali sarebbero potute essere le altre applicazioni d'utilizzo. Inoltre, un altro team sta lavorando a un dispositivo da indossare sul viso, dal nome in codice Heimdall, tratto dal personaggio nordico che vede e sente tutto. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori sviluppi in merito a questi progetti scientifici dall'intento benevolo, sperando che possano quindi rivelarsi utili.